In una basilica vaticana, gremita di senza tetto e poveri, Papa Francesco ha celebrato il giubileo delle persone socialmente escluse, le pietre preziose di Dio. Nell'Omelia, scandita dalle domande sul senso dell'esistenza, Papa Vergoglio ha ricordato che le cose del mondo, anche quelle più belle, passano, ma ci sono ricchezze che non svaniscono, il Signore è il prossimo. Eppure, ha continuato, oggi si preferiscono le cose che passano e si escludono le persone, poste da Dio al culmine del creato. È inaccettabile, ha aggiunto il Papa, ed è grave abituarsi allo scarto, ad avere la coscienza anestetizzata dinanzi al fratello che soffre. Quanto ci fa male fingere di non accorgerci di Lazzaro, che viene escluso e scartato, e voltare la faccia a Dio, e voltare la faccia a Dio. È un sintomo di sclerosi spirituale quando l'interesse si concentra sulle cose da produrre, invece che sulle persone da amare. Così nasce la tragica contraddizione dei nostri tempi. Quanto più aumentano il progresso e le possibilità, il che è un bene, tanto più vi sono coloro che non possono accedervi. È una grande ingiustizia che deve preoccuparci, molto più di sapere quando e come sarà la fine del mondo. Perché non si può stare tranquilli in casa mentre Lazzaro giasse alla porta. Non c'è pace in casa di chi sta bene quando manca giustizia nella casa di tutti. Nel giorno in cui nel mondo si chiudono le porte della misericordia, Francesco ha chiesto di non chiudere gli occhi dinanzi al prossimo. È nel fratello escluso che punta la lente di ingrandimento della Chiesa, perché ha affermato è nostro compito prenderci cura della vera ricchezza, che sono i poveri.